Buonasera e ben ritrovati in nuova puntata di Angoli che come sempre inizio con il ricordarvi il nostro indirizzo mail angoli-espansionetv.it mi raccomando scriveteci. Non perdo altro tempo perché in questa prima parte della puntata siamo in compagnia di due ospiti marco rubulotta subacqueo e bruno frangi fondatore di invincible diving buonasera ciao diamoci del tu perché siamo tra virgolette anche colleghi nel senso che pure io quest'estate sono diventata una subacquea mia mamma se ne è fatta una ragione mi sono avvicinata a questo mondo mi piace moltissimo e appunto interessandomi ho scoperto che a como esisteva questa questa società questa associazione invincible diving che è molto particolare perché vuole come dire offrire l'opportunità di fare un'esperienza subacquea anche alle persone diversamente abili e non vedenti allora bruno com'è che è nata questa quest'idea questa associazione diciamo che quest'idea nasce abbastanza lontano circa è un sei anni che stavo tentando su como di avvicinarmi a diverse società presenti sul territorio per creare questo polo sportivo io in questo momento sono occupato in house associazione unità spinale unipolare dell'ospedale di niguarda per cui anche noi come house cercavamo una base logistica per fare sia integrazione che per fare sport sulle rive dell'ario ho dovuto no sono molto contento ho preso i le redini dell'iniziativa e abbiamo fondato a questo punto cernobbio una nostra associazione che ha un nome molto particolare io lo definisco un qualcosa di non smettere mai di lottare ci occupiamo per cui di disabilità non vedenti di disabilità fisica paraplegia tetraplegia portiamo in italia abbiamo iniziato i nostri piccoli passi portiamo in italia anche questo modo di fare integrazione in fare sport siamo appena vedoci di un grosso progetto portato sull'isola di capri precisamente ad anacapri ne abbiamo realizzato uno credo che ne abbia parlato ampiamente la stampa con cernobbio per tutti l'anno scorso adesso a breve ripartiremo per ustica quindi insomma in buona sostanza il tuo impegno è riuscito appunto ad aprire come dire questo sport che sicuramente molto bello interessante marco poi ci darai anche tu conferma che sei un giovanissimo subacqueo a queste persone che hanno magari delle difficoltà e si è scoperto che fare attività in acqua è anche particolarmente come dire benefico no perché in assenza di gravità si riesce ad alleviare eventuali dolori e a sopperire alcune disabilità sì diciamo che fondamentalmente il concetto è giusto e basilare è un processo sportivo che va veramente io lo chiamo a principi superiori nel senso che è molto quello che c'è dietro le quinte per cui la preparazione tecnica sono tutti istruttori abilitati con HSA Italia che è l'organo nazionale internazionale che si occupa della formazione degli istruttori ma più che altro sono quasi tutti dei professionisti che in acqua ci sanno veramente andare perché è uno sport bellissimo affascinante per tutti gli aspetti però in acqua non si scherza per cui nasce anche a monte una formazione tecnica un parterre tecnico che è mesi di esperienza di prove di quello che deve avvenire per scendere poi in completa sicurezza diciamo che visto e considerato che sto vivendo in questi due anni questa magnifica esperienza all'interno dell'unità spinale questi ragazzi farli uscire una volta che escono dall'ospedale dopo queste gravi problematiche dovute alle visioni migliorlari ritrovarsi in un contesto sportivo in un contesto sociale un modo ancora per ritornare a vivere ritornare a fare sport a crederci che la vita può continuare nonostante sei su una sede a rotella credo che possa fare veramente la differenza a Como credo che tante persone mi conoscono perché ho cambiato un po' la mentalità di fare lo sport specialmente in ambito nuoto poi per scelte sono andato via sono andato a Milano sono andato a Capri eccetera eccetera sono rientrato e volevo fare veramente un qualcosa di importante un qualcosa che non c'era ma un qualcosa che dia dei segnali forti perché quello che io mi auguro che molte altre città copino per l'osmosi quello che stiamo facendo perché lo sport è di tutti. beh certo è vero e Marco invece tu sei credo il più giovane ragazzo italiano ai 13 anni possiamo dirlo che ha ottenuto la certificazione per accompagnare sott'acqua disabili e ipovedenti non vedenti allora partiamo dall'inizio intanto com'è che hai iniziato a andare sott'acqua quanti anni avevi dove è successo? allora ho iniziato a fare il primo corso a dieci anni che è la base diciamo per iniziare ho fatto il primo corso adesso ho due brevetti ho iniziato da un'esperienza in Toscana mentre ero in un campeggio e facevano le prove di subacquea e quindi sono andata da mia mamma e gli ho detto subito che volevo andarla a fare come regalo di compleanno e abbiamo fatto prima la prova in piscina e poi ci hanno portato praticamente il battesimo del mare a fare una piccola immersione a 5 metri e lì non avevo ancora il brevetto perché c'è iniziato dopo ok non avevo ancora l'età giusta e quindi ho fatto prima due anni di apnea e ho il brevetto di apnea e adesso ho due brevetti e basta che se non sbaglio sono l'open e l'advance grazie al quale puoi scendere fino a quanti metri? 25 fino a 25 da lì ecco ti sei un po' impratichito ti sei fatto un po' di esperienze immagino sei anche magari andato appunto non solo in Toscana ma magari anche nel lago a fare immersioni sei diventato particolarmente bravo e ti è capitato di entrare in contatto con Invincible Diving quindi adesso sei tu che dai una mano sei il compagno come si dice di altri subacquei con delle difficoltà fisiche? sì abbiamo fatto prima una prova dove io ero affiancato a Capri ero affiancato da due istruttori e accompagnavano una spinabifida ok e prima hanno fatto vedere un po' come si trovava l'assetto cioè hanno fatto vedere lo facevano per lui perché è la prima cosa che devono fare ecco sono queste giusto le immagini di cui facevi riferimento qua siete a Capri sì questa è la preparazione cioè il vestimento e l'entrata in acqua qui siamo sotto e stiamo trovando l'assetto al disabile che è in centro proprio a tutti gli altri subacquei gli vengono spostate le cavigliere per fargli trovare giusto l'assetto perché la muta tende a portare su cioè galleggiare e quindi vengono messi i pesi o dietro sulla bombola che poi in acqua diventa leggera e quindi in questo modo lo avete come dire gli avete creato quello che appunto si chiama assetto che ti consente di avere una posizione diciamo orizzontale in acqua e quindi di muoverti più liberamente immagino che una volta che siete sotto come dire ci si lascia anche prendere un po' appunto dall'emozione dal vedere diventa anche come dire naturale la grande fase di preparazione sarà stata prima sì com'è andata? bene e cioè? cioè che i disabili si sono vestiti sul gommone perché sono arrivati da Napoli sul gommone quindi fermano le carrozzelle si vestono aiutati dagli istruttori quindi quando loro sono pronti tu devi fare tutto di fretta perché devi entrare perché sennò prendono cioè si ha caldo con le mute l'estate e l'inverno un po' meno caldo e mentre si prepara anche lì vengono la bombola dentro nel gavo dove si mettono i pesi o la cintura e poi si preparano già le cavigliere e poi in acqua gli si trova dopo in acqua l'assetto ok ma per quel che riguarda i non vedenti com'è che preparate a questo tipo di esperienza perché obiettivamente uno dice come è possibile ecco invece è una cosa molto particolare e particolarmente emozionante anche per loro sì perché nei corsi che durano parecchi mesi vengono costruite in plastilina col pong col cartone stelle marine piuttosto che granseole cioè vari esseri viventi dell'acqua e mentre cioè sott'acqua vengono tracciati dei percorsi con delle sagole cioè delle corda che vengono cioè su questo percorso si trova sicuramente o una stella marina o la granseola cioè tutto quello che è stato riprodotto nei vari corsi lo si trova sott'acqua ok quindi ecco è una parte molto studiata veniamo invece anche all'aspetto più prettamente fisico e benefico per le persone che hanno subito un trauma che devono magari fare anche fisioterapia o che appunto hanno perso l'uso delle gambe che tipo di beneficio? questo forse è l'aspetto più interessante e più difficile per noi tecnici specialmente quando poi iniziamo un processo di apprendimento al nuoto perché io anni guardo ho avuto anche ex nuotatori a livello nazionale che purtroppo anche i giovani per incidenti in moto o in acqua poi bisogna ricostruirli non si trovano più e lì lavori molto sull'aspetto psicofisico e emozionale del ragazzo perché devi essere anche veramente forte devi avere trasmette di voglia veramente di vivere perché spesso e volentieri noi ci imbattiamo su un qualcuno che vuole smettere veramente di crederci che può farcela ugualmente e da qui Invincible Diving una volta preparato cominciano innanzitutto bisogna anche vedere la logistica dove abitano perché come Invincible Diving forse se riusciamo faremo una cosa che non è mai avvenuta ovvero saremo noi andare dall'utente in base all'impianto che ci chiamerà per cercare di far spostare il meno possibile in tanti chilometri la persona in tutte cose che stiamo vedendo in itinere in questi mesi una volta realizzato un po' tutto quanto si cominciano a indossare le bombole si comincia a fare i primi approcci è un po' come i corsi di nuoto per ragazzi con qualsiasi tipo di disabilità poi subentra il discorso tecnico in base alla finalità che in questo caso è la subacquea Certo, si è capito che comunque l'aspetto psicologico è fondamentale immagino che riappropriarsi per un po' di tempo anche della propria fisicità sott'acqua sia a livello psicologico molto importante è una cosa che forse non ha precedenti perché alcune volte a livello anche tecnico in una piscina in funzione anche a determinati esercizi fisici e a determinate leggi fisiche io ho provato a mettere in posizione diciamo quasi sorretto in verticale un ragazzo e questa persona vedendosi le sue gambe in piedi in una piscina anche se la controspinta idrostatica mi dava una mano io lo sorreggevo sono forti emozioni per un ragazzo rivedersi in piedi anche se poi non è proprio così vero per cui dietro veramente noi tecnici e istruttori subacquei credo che prima della preparazione che noi abbiamo a livello pragmatico nasce in noi una motivazione a spingere queste persone veramente a farcela sempre perché la vita purtroppo va avanti purtroppo deve andare avanti tante volte magari per esempio ad Anacapri abbiamo fatto l'impervietà delle zone in cui ci siamo immersi abbiamo proprio scelto ma volutamente anche con la giunta di Anacapri che ha voluto creare queste difficoltà per cercare poi di andare a soprassedere nei prossimi anni per creare delle spiagge fruibili accessibili abbiamo creato proprio anche dei paranchi per sollevare questi ragazzi dalla barca portarli sulla sedia a rotelle sulla terraferma sembra una cosa che ha del banale ma io vi dico veramente che essere appesi a un paranco due persone mi hissano per rimettermi sulla sedia a rotelle di essere veramente tu forte per far capire alle persone che ci sono lì che ti stanno solo dando una mano perché diciamoci non è credo una carrozzina che possa imprimere a qualsiasi persona un modello di dire tu sei diverso da me assolutamente siamo credo che siamo veramente tutti uguali il problema è fargli ritrovare la forza a questi ragazzi per dire io sono ancora uguale a te certo un'ultimissima veloce domanda per te Marco sicuramente fa bene a queste persone tornare a fare attività fisica e appropriarsi della propria vita appieno ma immagino che questo tipo di attività fa bene anche a chi aiuta loro a farlo tu hai imparato qualche lezione stando a contatto con queste persone sott'acqua no veramente qua la Capri è stata la prima immersione che ho fatto con i disabili e ne ho viste fare altre due una in piscina che era la prima immersione dopo l'incidente che faceva questa persona disabile e una a Cernobbio che ne abbiamo visti tre che facevano immersione e uno di questi era quello che è stato preparato in piscina tu come ti sei trovato? hai riflettuto su questa esperienza? no la cosa che ti fa emozionare è vedere proprio lo spirito loro che vanno a andare ancora in acqua anche se magari non muovono le gambe, non hai la sensazione di muovere le gambe certo, d'accordo, io ricordo che avete anche una pagina Facebook dove poter restare aggiornati con le vostre varie iniziative Invincible Diving Cernobbio, grazie mille per essere stati con noi stasera grazie a voi, ciao ci separiamo per qualche istante di pubblicità ma torniamo tra pochissimo con la seconda parte di Angoli restate con noi grazie a voi